buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale b world 2.3 parleremo del 21esimo episodio di fruit ninja e che cosa faremo beh non saprei non me lo ricordo quella volta quindi vi auguro una buona visione d'accordo ok ragazzi eccoci qua nel 21esimo episodio di fruit ninja finalmente l'atteso che significano aggiornamento a vero l'aggiornamento dello christmas fruit ninja l'evento di natale al evento laboratorio di babbo natale va bene giochiamoci va ok dicevo ragazzi allora questo evento bello come tema non so come funzioni ma so come fare ma che significa a modo lento 31 per 2 e santo otto è venuto in tutto ottimo 500 già e già andiamo bene raga dai che arriviamo a mille punti forza 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 900 10 49 83 forza no ci sono arrivato mille perfetto 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 ah potrei continuare va bene per me non è un problema altri 10 secondi in più anzi 20 visto che c'è la congelamento 1237 abbiamo ottenuto 1281 ottimo lavoro veramente ottimo vediamo 1371 ottimo record eh raga vediamo quando abbiamo ottenuto assai esatto e già qualcosa l'abbiamo ottenuta eh che significa connessione fallita ah perfetto era un po' qualcosa di rallentato continuiamo sembra se non scatto un altro video della pubblicità ok continuiamo nooo ho dimenticato la bomba vabbè fa niente vediamo se possiamo rifare di più forse eh ok il per due abbiamo prendo 73 troppo poco cosa ho combinato ho fatto un bel disastro ho fatto scoppiare tutte cose penso che il punteggio sia valido penso che il punteggio sia valido boh non lo so vediamo più o meno più o meno più o meno qualcosa siamo ottenuti e ottenerla oh ottimo lavoro abbiamo ottenuto un avatar un nuovo emoji del gioco mi piace vediamo qua ottimo lavoro oh e abbiamo ottenuto delle altre ricompense diciamo passiamo alla fase 2 raga vediamo se possiamo fare il record la vedo dura ottimo la congelamento attenzione no attenzione attenzione ottimo 100 abbiamo ottenuto e non ci sono le banane tigrate vabbè quella del moltiplicatore 26 per 2 52 è troppo tardi anche se ho fatto la congelamento sono riuscito in qualche modo a quanto pare penso di sì mi sono riuscito non ne vale manco la pena non ne vale manco la pena vediamo cosa abbiamo ottenuto eh 1110 otteniamo la ricompensa gratuita beh per poco ok continuiamo ma non si no non con beh 17 per 2 no per 31 68 di queste bombe a orologeria sono un bel problema abbiamo fatto un 400 è ottenuto il premio ero ancora quello ma ok ora dovrebbe esserci la fase 3 dopo questo però dobbiamo accumulare dei punteggi extra diciamo e questo non è una buona strada ottimo lavoro quattrocento due ottimo ho congelato il tempo forza dai quasi per poco no ho sbagliato ah beh niente inseriamo dopo forza ottimo no quattro per due no per favore e che vuoi poco punteggi ok diciamo che questo punteggi è uno schifo no no vuole continuare non vale nemmeno la pena bene aspettate bene bene aspettate aspettate e abbiamo sbloccato anche dei nuovi dojo ora però questa è la fase 3 ok tutto quanto comunque questa è la fase 2 scusa non è fase 3 guardiamo sta cosa esatto eh che c'è vediamo cosa riusciamo a vincere ottimo la congelamento abbiamo ottenuto no attenzione 153 178 87 questa l'aspettavo ragazzi troppo fantastico mi peccato se c'è il moltiplicatore possiamo ah no non me lo dà qua però quando mi doveva servire proprio non me l'ha dato ottimo abbiamo trovato il nuovo dojo ne facciamo un'altra e finiamo 6 per 2 possiamo aumentare la tentazione 106 178 200 200 ok questo si che ci voleva ottimo sento che è questo decisamente raga questo è tutto 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 il per poco 900 però già qualcosa e raga entusiasmante mille ottimo ci siamo riusciti vediamo quando abbiamo ottenuto bene e che posso dirvi raga va bene ragazzi abbiamo fatto questo partecipiamo alle all'evento laboratorio di babbo natale questo è nient'altro posso dirvi d'accordo però l'importante che abbiamo partecipato beh ragazzi spero tanto che questo video vende di fruit ninja il ventunesimo episodio partecipiamo all'evento laboratorio di babbo natale vi sia piaciuto iscrivetevi al canale racconto un bel like e noi ci sentiamo alla prossima ciao